Sono stati confiscati i beni ritenuti nella disponibilità dell'Andrangheta lavagnese. Arriva a compimento dunque un ulteriore passaggio dell'indagine Conti di Lavagna. Le confische sono state effettuate nei territori delle province di Genova e Milano e riguardano beni in disponibilità di soggetti ritenuti appartenenti all'Andrangheta calabrese da anni residenti in Liguria, attivi nei reati di usure, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziarie e traffico di stupefacenti. Oltre che nell'investimento di denaro di provenienza illecita con la conseguente intestazione fittizia di beni e società. I fatti sono quelli noti. Nel corso delle indagini, conosciute con il nome Conti di Lavagna, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Genova, la squadra mobile aveva già tratto in arresto otto persone ed eseguito misure cautelari a carico di altre tre persone. Gli ulteriori accertamenti condotti sugli interessi economici dell'Andrina Rodà Casile nella provincia di Genova avevano consentito di individuare nuovi investimenti immobiliari e in attività economiche nel settore delle videolotteri realizzati dall'uomo di fiducia del capo della locale di Lavagna, che era stato successivamente tratto in arresto unitamente ad altri tre fiancheggiatori. A seguito degli arresti e delle attività della Commissione d'Accesso nominata dal prefetto di Genova, il Consiglio Comunale di Lavagna è stato poi sciolto per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Gli accertamenti di carattere patrimoniale realizzati dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile e coordinati dalla direzione distrettuale antimafia hanno consentito al Tribunale di Genova di emettere il provvedimento di confisca di tutti i beni immobili, di autovetture di grossa cilindrata, conti correnti e deposito titoli nelle disponibilità degli affiliati all'Andrina Rodà Casile, oltre al sequestro delle imprese gestite dagli stessi affiliati tramite vari prestanome a loro collegati da vincoli di parentela. In particolare sono stati confiscati tre immobili commerciali, di cui due a Lavagna e uno a Sestri Levante, cinque appartamenti, di cui uno nel centro di Milano, tre a Lavagna e uno nella Baia del Silenzio di Sestri Levante, due box, uno a Milano e secondo a Lavagna, due magazzini a Sestri Levante, un ristorante nel centro di Sestri, una società attiva nel settore delle videolotteri e una partecipazione in una società attiva nel settore delle scommesse, con sede a Lavagna, cinque auto di cui due di lusso e una ventina di rapporti bancari attivi. Complessivamente la confisca riguarda beni per un valore di oltre 3 milioni di euro.